18 mesi nel Milan torna Roberto Donadoni, Cappello lo preferisce a Leonardo inizialmente in panchina. Sono passati 120 secondi da Sakic a Rossi sulla fascia destra, il cross la testa di Govedarica. Taibi non ci arriva il tentativo di salvataggio di Cardone, Lecce è in vantaggio con il gol dello slavo Govedarica. Un altro Dejan, protagonista ma in negativo, è il rosso-nero Savicevic, espulso dopo 6 minuti. Tentiamo di capire perché, Savicevic e Casale, c'è una manata, una spinta di Savicevic, espulso dunque Milan in 10. Ventesimo, la conclusione di Donadoni da fuori aria il palo, salva Lorieri battuto. Il Lecce perde Annoni al suo posto Conticchio, 33esimo, testa di Govedarica per Palmieri da questi a Rossi, scavalcato Taibi di testa a Cardone. Salva una situazione che andava facendosi difficile. Ancora Lecce, Palmieri per Maurizio Rossi, il diagonale, tiro non potente ma piuttosto preciso e di poco fuori. Andiamo al 42esimo, da Albertini a Klaivert, evitato molto bene Viali, poi quello che dovrebbe essere un tiro a colpo sicuro diventa un passaggio per lo ieri e svanisce così l'occasione del Milan. 45esimo, pasticcia la difesa rossonera, Cardone non riesce a liberare, subentra Palmieri, messo giù da Taibi ed è calcio di ridore, dice l'arbitro De Santis. Siamo in pieno recupero, al tiro lo stesso Palmieri e addirittura riesce a bloccare Taibi. Dunque si resta sull'1-0 per il Lecce. Passano 90 secondi, ancora area di rigore del Milan, contatto fra Boban e Maurizio Rossi. Ancora calcio di rigore, il secondo nel giro di 90 secondi e in questo caso sì che Casale fa centro. Ed è 2-0 all'intervallo per il Lecce. Secondo tempo Leonardo al posto di Donadoni nel Milan. Con il montaggio di Maurizio Tonini andiamo al 17esimo. Il colpo di tacco di Ba proprio per Leonardo. Il sinistro la parata di Lorieri. Poi il Milan non riesce ad approfittare della situazione. 22esimo Bacchi e detriangola Leonardo che gli restituisce il pallone. Il cross Klaivert c'è ma c'è anche Lorieri e Lecce miracolosamente si salva. Maspero per Govedarizza nel Lecce, in precedenza Maini per Boban nel Milan. 29esimo il cross di Palmieri. Rossi non arriva, Maspero ha la palla goal ma la spreca incredibilmente così. 31esimo il cross di Casale. Il velo di Maspero, la girata di Palmieri non forte e può bloccare Taidi. Passano 30 secondi, serie di finte di Ba. Il traversone ci mette un piede Ciprienne e autogolle. Il Milan accorcia così le distanze. Sconsolato Ciprienne vediamo la deviazione determinante del giocatore francese. E così si riaccindono le speranze per il Milan. 37esimo il tiro di Leonardo, Klaivert sulla traiettoria, deviazione casuale, fuori di poco. Ed è l'ultima opportunità per il Milan. Capello alla fine ha qualcosa da dire all'indirizzo dell'arbitro. Dunque il Lecce vince.